Io darei ragione a Ninni, io darei ragione a Ninni, è andata tutta bene, adesso conviene fare le messe a punto. Quanto vedo ci sarà? Meno di 10 minuti. Prima quando ho 8, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20. Sì, non ci vede niente qui da qua E' un po' qua che sono... E' un po' qua che sono andati E' un po' qui E' un po' qui E' un po' qui E' un po' qui